Ho passato le foto dell'esame, quelli del turno prima, e quindi sono messi là a fare l'esame già in anticipo, ma è bello che i professori quando hanno, quando siamo iniziati a fare l'esame hanno fatto, allora avete copiato bene l'esame del turno prima, l'avete visto per bene? Quindi credo siano state addirittura l'ora a dire fate le foto e passatele. Amici, tra l'altro oggi Marco ha finito la sessione! L'ho detto! Ballo, ballo tutto, questa tarantella perché ci sta acceso soprattutto per far notare la mancanza di una persona che sicuramente balla la tarantella e che dovrebbe stare qua con noi Praticamente la stiamo buttando in chiacchiera perché ciò per il più tempo possibile per giustificare l'assenza di un certo campano. Esatto, è morto, però non risponde anche su Telegram. Domani è un bollino rosso in sicilio del suo corpo, andiamo in posto per l'equip. Guarda, tra l'altro, amici, visto che stavamo menzionando la fine delle sessioni di Marco e quindi è a sua libertà l'inizio della sua estate. Sappiate che ci saranno notturne, ci saranno maturine, domani cominciamo con le maturine, ad esempio. Domani iniziamo? Ma, soprattutto, io ho già iniziato a lavorare sul vlog di Milano. Anche? Di Milano, che caccio dico? Di Milano, di Milano. Ma pensate che quando parlo di Milano, io dico di Milano, quando parlo di Milano, io dico di Milano. Milandia? Perché siete stupidi. Alberto, io non ti permetto di... Milano-landia. E niente, ho già iniziato a lavorare proprio per Milandia. Ragazzi, l'hype che mi è salito ora per Milandia. Da che l'hype non ci sta perché dicevo, caso, stanno chiusando adesso ci sta l'hype per Milandia. Ora, è parte tutto insieme e hai fatto... Esatto. O come farò io quando scenderò a fare la discesa del Khatun, ma si scorderanno di legare bene il mio carrello? No, ti cacchi addosso. Io. Io proprio. Ma guarda, con quanto è finita l'acqua del Niagara, tieni la bocca aperta e diventi... No, 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 dicevo, no, sul Khatun. Sul Khatun, che faccio... Perché si sgancia il carrello, quindi finiscono. Su Khatun? Sì, finisce, si sgancia il carrello. Lo sappiamo che gli sfinteri deboli, non c'è bisogno di... Amici, intanto, visto che abbiamo un po' di minutini, così, di assestamento, dici i volumi, per favore. Dici i volumi? Perché ultimamente stiamo avendo dei problemi. Di problemi, io intanto quello del controllo... Vorremmo avere... Anche se qualcuno... Luca, stai laggando? No. No, è discord. Anche se qualcuno... Ciao, user! Ciao, user! Ora che viene qua per vestigliere le strategie, questo. Ciao, Mel! Ciao, Mel! Come va? Comunque, cosa c'è che devo dire? E che cacchino stai? Aspetta, aspetta. Allora, in... Umi, diteci, si sentite buono in un microfono di Marco che fa... Perché, perché ultimamente mi ha impazzito il microfono. Ah, non è che il microfono è impazzito, è che Marco è stupido, lo prende a pugno e poi si lamenta. Una volta funziona, nel senso... Sapete che ieri notte... Ieri notte c'era... Allora, avete presente i miei gatti sono handicappati, non mentalmente handicappati. Andiappati! Sì, Dado era toscanissimo il professore. Non c'era troppo ridere. E quindi vogliono salire in cima alla mia libreria, che altezza soffitto, per dormire, ok? Ok, cosa succede? Io stavo... Erano dormivegli, erano tipo le... Ehm... Certo puzzetto. Più, po, 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 po... Ah, dovuta... Che cazzo... Eh, eh, la guerra è finalmente arrivata. E' finalmente arrivata. Ho già acceso la luce, c'era il monitor per terra, cioè il microfono per terra, la stiera per terra... E c'è anche un santino per terra dalle madonne continuate. Perché c'è un gatto che non è capace un cazzo, con questa su. Che non c'è neanche fare i salti Capito E quindi fa scivola Detto questo direi che non possiamo più terciversare Perché il signor Napoli non arriva E' morto E quindi direi di fare la prima Senza di lui dai Io ne approfitto però per dire Invitiamo la domanda Probabilmente giovedì pomeriggio ci sarà un'altra pomeridiana Che bello Tutti vogliamo le live di Luca Non posso bannarlo Vai mettete i ruoli Mi metterei mid A sto punto di vista non c'è una di carry Se Luca vuole fare la di carry Vai vengo io Mi metto support come prima Muser sappi che le formazioni Che Io qualsiasi ruolo metto Mi dice che non posso Muser sappi che la formazione che vedrai In squadra Non è quella Della sfida Ma anche perché Io non andrò Io non andrò mai giungla Ma anche chi cazzo ci gioca a sto gioco di merda Tantomeno andrò giungla Con Evelyn Io andrò giungla con Andrò giungla con Andiamo tutti giungla In realtà è una stessa Cazzo Meraviglia dirlo ma le live di Luca Si subnavano insomma Sì tranquillo Cioè almeno Io le volevo fare rilassanti Poi prendo più spaventi Io che altro Io non ho capito cosa ha detto Mel Sembra che mi sia autolisionista Chi è me? E perché autolisionista? Non lo so Non ce l'ho Noi non so quanto sia stato Eh non lo so Certo Ah chetta Sono il primo a scegliere La gamba Incredibile Ma se c'è Martucco frana sempre Cosa? Cazzo Cosa? Può subentrare Alice Ma noi ormai abbiamo Abbiamo cercato Posso aspettare un'altra cinque minuti Chiudiamo? Oh aspettiamo cinque minuti di ban Chiudiamo Io chiudo il gioco No 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 Basta aspettare No no Basta aspettare che passi nei secondi qua Vabbè Ah intanto mi durerà un po' di più la live Ovvio Non banno nessuno Non banno nessuno Ma non è il ban il fatto ragazzi No 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 ma nel senso Parliamo di Parliamo Porca trota Oh Ah la gamba Parliamo di bambini No 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 Nel senso Allora Allora Ad esempio Io non lo voglio avere Ad esempio Vabbè scusami se non mi piacciono i bambini Non c'è nulla di male No non ci piacciono a noi No no Ovviamente no Poi urlano un casino Cacano C'è stato un comico che diceva Che quando avrà Quando avrà un figlio Gli farà fare l'operazione Le corde vocali Così che non farà Ma farà Papà Perché non è per Eliezer Come figlio scusami Questo comico era Marco Comunque sì 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 Devo vivere se i bambini incredibili Marco Ferrarano Da Odio Dovevo farlo Sì no Dico Non perché mi stava ricercando A me Quindi ho fatto No No Parliamo intanto di quello che sarà il programma delle 12 ore Sì allora No e direi anche Intanto invitiamo Alice dove sei Eh no sta salendo Ok Allora La 12 ore cosa sarà Allora Sicuramente Giocheremo Preparatevi Perché ci sarà da ridere Su Con Volley Ragdoll Volley Come si chiama Cazzo è vero Ragdoll Qualcosa insomma Per me Aero maltrati i bambini La notte Sì Poi abbiamo momento di fare Prima donna la dormire Un gioco in particolare Di retro game Cosa che Non vi spoilereremo Assolutamente Sappiate che è un bel Gioco Multiplayer Sì Pong 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 Giochiamo Poi ci sarà anche Io porto la scheda Acquisizione su A Roma Giù Quindi giocheremo A smash sicuro Giocheremo a smash sicuro Ma anche altre Anche altre due chicchette Io stavo pensando Dato il retro gaming Non so qual è Poi giocheremo Sicuramente a coso Forse faremo Del rocket league In split screen Non so Forse faremo Del rocket league In split screen Se vogliamo tanto male Un po' di genital adjusting Sarebbe bello È bannato da Twitch Purtroppo Possiamo fare cosa Faremo Quello delle macchine Come si chiama Facciamo quello con i maschi Che si arrampicano Tra di loro Devono fare la torre di maschi Io non ho capito Che gioco è Quello che hanno anche il pen Il pisello Che faceva Amici Vengono in mente Giochi In multilocale Fateci sapere Ci stavo per Cook Overcucco 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 Ovvero Lo potete fare Non è male Overcucco 2 Ci sta Che stava Sullo scaricato Però Io mi ricordo Di un certo gioco Che si chiama Monkey Che ci salva la serata Ragazzi Devo andare A fare pipì Fortissimo Intanto Intanto Entra Sul lol Che che si è andato Buonasera Amici Maser Ricettate Mia non Si trutta Una coscia Scusate Sono una Se resettate E' diventata Una coscia E quindi Si gira E io non gioco Ciò No No Sono arrivata Io a salvare La situazione Perché Maser È Veramente Un lavativo E quindi Ti sottorno Allora Ti ringrazio Ci tengo Molto La mia igiene Personale Vado Questo Rompele Coscia Su Nonna Per non Venire Live Non lo so Allora Quindi Chi gioca Lì Se ne Andate In Magine Ho sentito Io Vado E quindi Posso Fare A giro Ragazzi Tanto Se c'era Do PIP Si Facciamo A giro Si Alice Magari Alla prossima No Mamma Beh Oddio Alice Ho capito Che Ho capito Che ci Vediamo Ci senti Molto Spesso Però Addiritto La mamma Di Siamo Poi Eccessiva Ma Siamo La cosa Bella Contando Che La Squi E La Donna Della Situazione Di Mamm Fossi Fossi Aero Mi Sentirei Un po' Più Effemminato La Prossima Sì Sì Entra La Prossima Così Devo Andare In baglio Fonda Quella Porcellana Abbiamo Due minuti E mezzo Perché Che è Successo È Perché Mase Aspettavamo Alice Sono partiti Ci stanno Anche Alice Si mette a Prendere Ammazzate La Nonna Allora Ma Se Le Arrecettata Mentre Non so Cosa Stava Fatti E Detto Da Nonna Intanto E Cominciarono Prozia In Napoletano Prozia Nonne Nonne O Marco Sono Allora Devi Dire Prozia Non Cercare Di Farmi Sentire In Colpa Non Mi Ci Senti Anche Le Sono Forte Ha Detto Che Suo Nonno E Stupido Non Si Sentirà Mai No Mi Accettata E Inciampata Mentre Faceva Cosse Sì Sono Una Prezzina Felice Se è Velocissimo Farla Bb E Beh Tanto Da Fare Andata Giù Conto Del Fatto Che Si Fosse Spaccata Una Coscia Perché Ha Urlato Aia La Mia Coscia Dato Che Abitiamo Direttamente Sotto Di Lei Ha Fatto Un Rumore Della Madonna Ok Che Vedete Che È Successo Il Mio Padre Sardiamo A Vedere Abbiamo Bussato Alla Porta E Nessuno Veniva Ad Aprire Quindi L'avete Scondata Come Un vero Napoletano Ma Ha Fatto Esplodere Il Figlio E Il Cugine Quindi Abbiamo A Pertra Che Abbiamo Trovato La Prozia Diciamo Che Si Era Spalmata Come Mi Stai Dicendo Che Non Avete Fatto Esplodere La Porta Ma Devi Sapere Che Essere Napoletani Sono Tentati A Salerno No A Salerno In realtà Non Usano Gli Esplosivi Usano Diretto Fandola Con La Carta Di Credito In Maniera Molto Più Pulita La Fanno Passare La Prono Così Che Cos' Quella Con Si Pagano Le Cose Quella Che Sfilate Nella M No Io Sfilo L'abbonamento Sennò Come Lo Passo Le Carte Di Credito Nota Ho Visto Ho Visto Un Video Di Uno Che Voleva Sorpassare I Tornelli Ma Si Accappottato E Cascato Fortissimo Penso Che Quello Che Ha Di Di Nuo La Sig Rizzera Papà 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 Facendo Così Per Capodanno Questa Cosa Ragazzi Ovviamente Da partito Di Prima Che Si Annullata Io Ero Prima A Piccare Ora Che Quella Vera Sono Ultimo Non Ci Credo Non Ti Picchi Meglio Non Mi Piace Piccare Per Che Mi Rubano Kindred È In Free Rotation Che Sono Scarsi Non È Mico Colpa Mia Stamattina Ragazzi Questo è Successo Stavo Giocando Con Luca E Non Mi Ricordo Mi Sa Forse Era Michiro Michiro Fata Io In Questa Fase Qua In Qui Si Dichiara Avevo Dichiarato E Karim La Nostra Support Che Non Era Una Di Noi Draven Luca Sì La Nostra Support Che Non Era Una Che Giocava Con Noi Prende Mi Banna E Karim La Marca Giselle Prende La Marca Giselle L'ho Visto Anch'io Prende Mi Banna Mi Banna E Karim Che Io Faccio Ehi Perché Mi E Bannato E Karim E Perché No Forse Perché L'ho Scelto Io Zita Non Sapeva Che Forse Non Sapeva Che Bannando E Luca Vero Toglieva Espandiamo La Tua Cultura Videoludica Vedi 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 Tra l'altro Scritto Virgola LOL Perché Giochiamo A LOL Ragazzi Che Aspettate Mel 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 Vado Gint Karim 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 Lo Faccio L'ultima Volta Che Ho Visto Un Gintop L'abbiamo Insultato In Trecento Ma Non Mi Ricorda Cos'era Sono Successo Ma Perché Avamo Insultato In 40.000 L'avete Chiamato L'avete Evocato C'era Gintop No Ero Cracciato Infatti Ho chiamato Ginn Chat Scegliete Devo far Venire O Non Far Venire Direzione A Marco Cerci Non Posso Ragazzi Alice Viene Non Si Riavviene In Tempo Il Finisce A Mezzanotte Un'altra Volta No Io Volevo Vedere First Per Marco Lo Vedremo Vedremo In vita Dorata Per Sbaglio Pensate A meno Si Ne avviene Meno Loll È Primo Mort Che Cazzo Bravo Artyom Spam Il nuovo Comando Aspetta 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 Nulla 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 Stacca Aero Si Pesso Come Ad Carry No No Come Top È Buggata Sì Non Hanno Rotto Quella Cosa Lì Poi Che Se Fosse Poveretto Aero Può Andare Come Ad Carry No 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 Carta Identità Che Afferma Che No Come Si Chiamano La Carta Elettorale La Carta Elettorale Come Si Chiamate Essere Elettorale Oppure A napoli Il voto Costa 50 E Beh Ragazzi Ma Figuriamoci Non è Possibile Cazzo Vabbè Visto Che I Nossi Amici Stiamo Tardando Per Questa Mi Partita Faccio Vedere Qualcosa Di Incredibile Allora ragazzi A me I champion I champion Che mi piacciono Tantissimo Ma proprio Tanto A livello Fisico Di roll Sono due Una è Kaisa Nella skin Normale L'altra È Cazzate Marco 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 Perché Dici Cazzate Marco Ti piacciono I maschi Sono Kaisa Nella skin Base E Soprattutto Ari Nella skin Che non so Quale sia Vuole fare cambio Dado No Uso Leona Oppure vuole andare Su Ragazzi Vedete com'è il volume Di Alice È uguale Anche per me È uguale È vero I volumi Allora No dai Posso andare Io supporto Che volevo provare Una cazzata Vai 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 Ma vado Io supporto Non sei Everybody Goes Me Go In USA Oh Nessuna Prato Bababababababababababababababababababa Nessuna Bannata Sento bene Grazie Artyom Odio Artyom E cambiato colore Pensavo fossi Mel Artyom Intanto cambia colore In mezzo Ma io penso che sia Io penso che sia Twitch Ma no 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 Scegliere di chiamarlo Artyom Cavaleonti No no è già Fabio Spadoni Spadoni Scusami Allora Mel sappi che tu per me sei unica Chi è che tank Scusami di là Se Giovanni e basta I rei e tank Io Sento bene per una volta Beh Oh dai C'è vero c'è la skin di Mordekaiser Ero fortissimo Che skin Ma è di Mordekaiser Cavaliere del drago I cavalieri del drago Oh Quale l'onore mamma mia Che bella bottele in cavete Blitzcrank Ancre È facile Blitz è facile Non vi permettete mai più di fare delle allusioni di questo tipo Contro una piattaforma di string così performante Esatto come mixer No signor Twitch No no Non lo faccio Abbiamo un valore Allora Ma le dette da fare Per favore Dove Ragazzi Sappiate che Due sono calcolati Io mi ricordo Quella volta Che mase Che mase Chiuse Twitch E ruppe Twitch È vero Sì Per ben due volte Per ben due volte Penetriamoli nel profondo Allora ragazzi Da quant'è Da quant'è Che non mi vedavate Streammare lol Eh ciao Tadanka Tanto Per fortuna Eh sì Faccio vedere Come sono diventato forte Con Kim Poi streammare lol E ancora hanno visto un cazzo Quindi Dado Oh no Ho andato a prendere la chatta Ragazzi Ho una sete che mi verrebbe pochino Marco sta catturando Sì 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 Stiamo vedendo Non ne ho idea Perché sono nuova Ah va bene Ma ti farò vedere Quanti giorni stiamo a mirabilanza Quattro giorni E quindi sono quattro live Che dobbiamo fare No No tre live Tre live Sono Tre notti Quanti notti sono Tre notti Tre notti Perché quattro giorni In realtà non so La fine Non so chi farà la live Noi Noi Non ce ne sono No La può fare Luca 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 Sono qua No No ragazzi Intendo il nove Lotto Il nove No No Lotto 2008 Vuol dire lotto Lotto C'è Luca Ma lotto ci sono io che arrivo a casa Oppure si fa No No Non mi va Non mi pezzeggiare Marco Ehi Io arrivo a casa in tempo Ah va bello Lasciarla Eh sì Qua c'è Masa Qualcuno la fa Comunque Mel sappi che io Sono scarso fortissimo I menu I menu I menu Sono scarso fortissimo Allora quindi ci sarà da ridere A vedermi schiattare ogni due secondi Anche perché Non è vero Marco Questo champion qua che vedi Kindred È un fuccello È una donna E se tu le soffi Faccia amore Amici secondo voi Tirate le vostre scommesse in chat Chi è che ranta per primo Chi è che ranta per primo Eeeh Oh Eeeh Oh Che cazzo fai Ha rantato Di volta Sarebbe per ai E raggiare questo Però va bene Si è chiuso Ti scordo Non ho sentito Meno ma Per favore parto red come fa 10 50 euro di mase come si o qualcosa l'ho anche provato e mi divertivo tantissimo perché si giocare giaro vando riprova riprova marco puoi dire che partita perché stato bannato però adesso vi faccio vedere che belli i balli di kindred con l'uno che cazzo faccio guglielmo hotel con il 2 ancora ti riempie di botte ho sbagliato a primo momento con i due faccio invece ritorno al futuro con il 3 che paura vero marco ti ho rubato la io sono più bello marco tu non sei buono guarda io una chitarra ah sì e io ho un lupo con il quale faccia non è un lupo a per chi sia perché un neofita del gioco chi non conoscesse come funziona gioco sono squadre 5 contro 5 bisogna distruggere queste torri che vede sulla mappa in basso a destra fino arrivare al nexus in mezzo poi ma lo scopo non era render quello è il nostro allora lo scopo del del mio champion qual è ai levati ai lu ai lu non l'ho preso ma sei pazzo sei tranquillo marco ai lu di nulla non l'hai preso tu stai fuori a parte che non neanche sei lì vicino perché tre volte su quattro che sono in mezzo io su ora allora come funziona il mio champion perché non lo conosci e sarco non frega un cazzo nessuno il mio champion come funziona prima che una oscura presenza mi interrompesse funziona che prendo le sberle da tutti ai lu come potete vedere questo champion prende gli schiaffi da tutti però fa male della madonna alla fine fa male ora non è che fa male anche all'inizio fa male non crede bravissimo Alice la paura e la voce di Alice basta non lo smettere ora mi capisci in più posso anche passare a traversi i muri ma non ho questo ma io non sono mai in supporto dato scusa mi sta imparando adesso cosa vorresti dire faresti solo bene a dirlo sono paolo cannone 2.0 ragazzi no 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 si è rifullato sto stronzo e marco parla sempre sopra tutti scusate ragazzi mi sei rifullato il rosco capito ma fatti i cazzi tuoi ma sta andando? come io non lo leggo più ah io stupido che pensavo che lo scopo fosse quello di arrivare a fine partita senza aver bestemmiato il creato intero siamo sicuri ma guarda la guarda che cazzo mi hanno messo la caccia ovviamente ah la tanca vi fa notare che se Giovanni è morto fa notare dai suoi campi ah non c'ho mica fatto caso quindi sti allora e Artyom dice hashtag alice cannone secondo me cazzo è possibile che se Giovanni se Giovanni che è un tank della miseria muore con i sei che a Mirabilandia potrebbe tornare se Giovanni non fa un cazzo di danno si ok dovrei tank non può morire con un cazzo di danno è uguale se non fai danno le cose ti colpiscono che non le butti giù non so da che campo in realtà magari dai piccioni cazzo da che campo? no chi mi dà una mano con i sei Giovanni ragazzi? no è stata la live raga vaffanculo a me arrivo Dado no no ok no si no che miss del cazzo che miss questa Irelia è stupida cioè viene sempre sotto torre se poi non c'è arco di botte dalla torre io non mi sto facendo un cazzo Marco ricordami ricordati che sono no Marco non ha un darga non ho più mano ok ricordati che sono kartus e quindi il secondo e terzo blu magari mi fa comodo si 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 tranquillo tranquilla ma vaffanculo dai allora se Giovanni prima ha provato a rubarmi il granchio e mi ha partito lo smite con non so qualche secolo di ritardo forse mi sa che lo ha smettato lei ma ha calcolato male il tempo dello smite che culo ragazzi che culo mi è capitata la caccia sul granchio mentre lo facevo guarda sei veramente una persona fortunata vai blickstreng vai 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 voglio stuprare anche te dai Alice ma da lì ci piacciono i robot da lì ci piacciono i robot ho mangiato troppo ragazzi scusa grazie Marco porca puttana e vaffanculo ragazzi ragazzi sbagliato sbagliato le rune si che rune hai? quelle di quelle di Sivir si evviva quindi non posso neanche non posso farmi il il coso le scarpe fino al livello 10 ah quello da noi un minuto 10 fino al livello 10 un minuto 10 scusate non ho capito scusami cosa con il tempo con le kid perché non ho sciopato niente perché sono cartina parte da 12 minuti Alice da giocatrice da giocatore di blitz sono un pelo offeso ma tu da giocatore di blitz ti meriti tutto questo esattamente che io potrei bannare regalo ultimo ma tu sei bannato ma che è se non non c'è città sessualmente quando bannano tipo Alice di qualcosa di malvagio Luca Luca vaffanculo da per questo non la banni Alice Alice di di no vaffanculo due volte vaffanculo Luca Luca tua madre non ti voleva ragazzi vengono bot sbagliava torfetta bannato Alice Rossi o no magari ci vuole anche seguire ma sono stato utilissimo in questa bot lane prendere gli assist comunque anche anche per me Alice o no torfetta bannata Alice Rossi guarda non mi frega un cazzo di quello che dici te Marco io giuro che ti smonto tutte le mattonelle e poi ti monto le mattonelle e me la prima dato io ti giuro che ti lecco la vagina Marco una cosa fondamentale dobbiamo sapere cosa il tuo hai detto le mattonelle sono di un colore che ricorda il giallo sono bianche ti piacerebbe avere delle mattonelle sono bianche oh no oh no non fatelo non fatelo non fatelo non fatelo ancora meglio di quello che abbiamo pianificato no ragazzi ragazzi ho preso il drago che è successo perché è arrivato molto airoo dammi una mano un attimo con il piccione ho detto airoo ho detto dato scusami volevo dire adesso ho detto airoo perché mi confondete ma perché sono morto arrivo dato non ci credo no 27 hp non li accetto 27 porra dov'è? dov'è? noo ehi io torno in base io lo allevo come se fosse il mio lo metto sotto sale a Natale gli farò tanti bei regali lo tratterò come un principesso basta basta preparare il culo perché questo è quello che vi farò alla prossima partita ah ho l'incensione ardentro miserio consiglio a te ai full metal di recuperarsi l'ultima year sì mi raccomando strategia della partita scorsa sotto la torre ecco la coda tra le gambe sotto la torre dai dai chiamate si incazza ma miser giocava ruba la chi la data vieni qua da dove vieni qua dato per favore vieni qua dato per favore vieni qua sto perdendo campi dato te lo prendi da solo il blu dato il blu te lo prendi da solo ma vaffanculo te il blu vai datemi tre motivi per non quittare no non ti ridò per favore quitta data non permettiamo di perdere questa partita bravo Mase io stavo facendo due kill me l'avete inculata e non lo so dato non sa fare le kill beccami il cazzo dato non sa fare le kill ma con il gusto proprio ci ne mette tutta la lingua oh e spiripiripi e spiripiripi e spiripiripi e spiripiripi e spiripiripi sono appena mortissimi mamma mia se sono morto è stato un gang del cazzo no mi ha sbagliato ehi quanto vi che dato che il numero è è il numero 4 e quelli lì sono molto avanzati con il livello quindi user la trotta quant'è che sarà fatto non mi ricordo che aveva vinto user ma user c'era ma si che c'era ma si che c'era ma si che c'era ma si no non me lo ricordavo user rinfresca la mia memoria che aveva vinto la scorsa proprio stracciata ragazzi facciamo i superiori come come ggwp quindi ah eeeh peppere 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 pe a livelli faccio tutti i complimenti del mondo noi invece ti offendiamo sia fuori che dentro siamo 100 coerenci 2 3 up piripipi es piripipi yes piripipi pap pepam sono una tenera agnellina ahia una fattata c'ho la ulti ragazzi ah sono morto ragazzi c'ho la ulti serve botte che verso fai no ci stanno quelli dietro lì eh ma stavano finendo dato simile io ho un folle dai vieni qua master io dai ci sta col blu che è ancora vivo perchè sto aspettando che tu lo uccida da solo dai vieni qua vabbè è chiaro che ti sta lontano dai entra nel cerchio brutto bastardo lo farà ci ho provato ma non si è riuscita wasaki wasaki wasabi eh Alice da giocatore di dark souls secondo te uno che può fare le rotolate mi faccio colpire perchè bravo c'è un marco di dark souls capito chi sei marco ma sta tutti ad aver spunto la live eh qualcuno si state portando state portando i rally i rally portami il pisello sono portato ci ha dato capite chi ha altre ritengo sotto ritengo sotto ritengo sotto ritengo sotto bella bella bello ma mia star utile in faccia sono morto questo scusami ma come non sono morti signore signore con quanta vita non sono morti sono pieni della tua gloria osanna e bene cominciamo con una cosa sbagliata ma fatti le scarpe no marcello ho le scarpe imbecilloide potenziate ma perché le scarpe questo è stupido io lo picchio non è il primo oggetto questo non sa di cosa parla e si guarda pure il telefono in live sono i miei carichi che sono arrivate alla tua porta mi è arrivata una domanda dal dal mistico bot delle domande ma cosa per gli incontri no è un po' una cazzata enorme questo bot chiedete a darlo la domanda è se due gemelli fanno un figlio avevo capito sei il duce hai lui hai lui cosa sto aspettando se mi avvisi guardate neanche mezza neanche Alice io mi sa che non arrivo ad aiutarti non importa che giocata che ho fatto cazzo Dado scrive delle cose interessanti nella chat di gruppo non è me non te le voglio tra il burro questo è sanscrito Dado era così che bestemmiavano loro non sapete che potessi fare un verbo modale per indire per indire per indire aggrappato ma se non è che se tu sei brava un giocatore che non per il cazzo agli altri chiaro che ti adesso arrivo ti faccio un 10 a 0 one v one e poi vederti piangere chiedendomi perdoni in ginocchio staccare mattonelli voglio pianti voglio pianti voglio pianti abbiamo fatto i due v2 me ne fa me ne avete fatti 15 diciamo rivalutando come giocatore sono molto bene segnirato ultimamente ma se è morto è morto è morto infatti lo viati sto red non me l'avete rubata questa che strano non potevo non potevo io non te ne ho rubata neanche una dato io mi vado a fare il drago è l'unica sana qua dentro grazie io non te ne ho rubata nessuna vado io non ho neanche mai visto stupido io i reali a sta tippando o forse sta toccando e non è che sei chiavi prima di fare lo stronzo fai meno lo stronzo ragazzi io sto facendo il drago ma come potete sapere sono kindred quindi gradire un aiuto amici questa cosa non mi ascolta ragazzi sto per incazzarmi tu perché perché vi sto chiedendo aiuto dal drago e voi non mi state ascoltando fatevi cazzo che poi ti serve aiuto al drago scusa te lo stai facendo avevo paura il drago è più forte hai due pozioni in caso ti sparì tutte e quattro insieme luca io non mi drogo comunque credo che la partita sia finita ma io lo spero perché non ce la faccio più ah la partita che stavo giocando bene ai rete vengo da te adesso alice ha fatto l'ottore che palle rubo il carretto a dado come sei possente grazie dove tieni gioielli marino marco un attimo no abbiamo giocato abbiamo santissimo onnipotente ragazzi io qua prenderei degli schiaffi importantissimi no no ma se non eterno sempre eterno ehi alice io direi che possiamo fare qualcosa qua dentro oh mio dio ma se io mi prendo sono morta degli schiaffi fai quello che ti pare sto fuggendo corri marco perché mi avete condonato è perché ma come è stato lo stupido no no mi è stordito fuggi questa dici venite aiutarmi ma che cazzo quello che vi meritate per avermi abbandonato e ma se arriva adesso arriva due autottacchi e la uccide quindi lui sta là aspetta che qualcuno muoia per poi andare a far aiutare chi nessuno perché non ci sa più nessuno da aiutare ma perché è mai stato gioco di squadra ma se tu sei una persona che deve piangere la notte bravissimo bravissimo questo blitzcrank poi è bello il fatto che vabbè detto ma arriva ma se si prende le kill e dado ha fatto la doppia ma se stai zitto tu e tu addio dado è bravissimo quella bellissima bellissima l'ex host grazie grazie hai visto come sono brava come supporti il credible ho rubato la prima chi ragazzi il gioco davvero da far schifo la mia vita è una merda non è stato il tuo uomo sta giocando bene Marco 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 Cercelli sono 3-7 io ho dato io ho un'idea che mi sta seguendo eh sì ve lo sta dicendo io sono 3-3 1 a San Tropez Marco lo sta dicendo a me che sono morto non so la gente si chiede perché ma si ma ve la fate ve la fate no lei è troppo tencosa è troppo tencosa ma non fare il pazzo siamo 3-2 cosa fare eravuto contro 2 ma cosa dici sarà quest'altro che d'ascia ma chi è che sta gridando ma siamo impazziti ma che cazzo ma siamo impazziti è una donna che vuole fare ma siamo impazziti 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 ma devi rompere i coglioni perché io ti ammazzo di boss ma se ci facessimo il bar è vero sento qualcuno urlare anche io no adesso no io non ho chiesto nessuno prima c'era una che mi ha sono morto ma perché si uscita? io sto ultando perché tu non ulti personaggio perché no? eeeh dai mi sono no perché si no non serve stare in video abbiamo preso l'ipitor scusa perché io premo sull'oggetto e tu non lo compri il gioco del cazzo? oh e adesso vedremo la base fin quando qualcuno non respona cioè amici del chat siete tutti morti che è la prima cosa che fa appena rispondare è lanciare la ulti osserviamo un mazen il suo habitat naturale vado ciao Alice ciao ciao pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Barone, Barone, va bene Barone Alberto io non so piangere il tuo nome Durante la notte perché non ne ho bisogno Ma chi se ne frega se lo sanno Va bene Stanno arrivando tutti quanti Stanno arrivando tutti quanti Vai lupo Ahia Mi stai picchiando Barone Rampante Di Sicilia Santissimo Wow Non male Beh vabbè La minchia di barbo Taiki Grazie Buonasera Buonasera Taiki Ti esco lo scroto Si dice di chiamarsi Taiki Lo chiamo Taiki Non c'è male non devi dare Ma è lui che ha scelto il suo nome scusami No Se lo pronunciavo posso chiamarmi Nel senso io posso Fireteam 98 Ma se mi chiamo Fireteam 98 Lo pronuncio male io Ehi quindi adesso si è fatto una guardian angel Chissà per quale motivo Ora è morto Il mio baron ragazzi è finito al cesso Non male Ma sei morto Eh si No 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 non sono morto Io mi sembra Perché Me ne sono pentita Ah la partita è vinta Izi Izi Mentre faccio mosse a caso Bella ultima fine Oh vedi ci sono Doppia esplosione Ma ci sono Il modo corretto Ma sei tu che non lo pronunci bene Il giappone se il C E il C Se no sarebbe K I Magari è italiano È italiano Chi mi dà il cambio Io esco io Ok Luca Devi accettare Luca Non mi avete mandato l'invito No devi accettare il personaggio La partita e tutto quanto Ah più Che bello Ah Pierù Ho sbagliato Mi bannatela per favore Ma volentieri Guarda Banno te se vuoi Dado non si tocca Perché Questo mi ha rimasto dal party Se non devo bestemmiare Perché tanto è presto Capito Non abbiamo perso tempo oggi Oddio Dado due secondi Su quanto cagli coglioni Marco due secondi Io ti spacco i denti Dado due secondi Io ho quei denti Che tu mi spacchi Te li infilo nelle retine Quindi che ruolo Vado io Si sente Facciamo così Vediamo in che ruolo mi mette Qui si dice Fragranza di Di scroll Facciamo una cosa ragazzi Tutti i fill No Perché se poi vado di carry Mi spacco le pelle Va bene Eh vabbè Tanto per fare una partita Come quando C'è 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 No, 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 no! Sto sbagliando, ragazzi sto sbagliando, ban, ragazzi sto sbagliando Se si bana Kindred da solo, ragazzi Cazzo, io non capivo, vedevo Kindred da solo, ragazzi Se lo cava, se lo cava, io ridevo Ma ci sono delle volte Oh no, mi hanno bannato, adesso mi prendono Kindred e mi incazzo Perché mi hanno bannato pure Jax Che cazzo ne trovo io mid, che hanno bannato Zed e hanno bannato Yasuo Cioè, ovviamente questa partita hanno bannato quasi tutti i champion che uso, Jax e Karin Sivir Timo, 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 ne plumba Oh, quante fregnavi Ma se preferisci Morgano preferisci Leona Scegli tuo amico mio, divertiti Scegli tuo amico mio, divertiti Famosissima canzone Porca puttana Ma chi mi piccheranno mai mid? Xerath Cazzo Quindi Luca, qui che prendi Xerath o... Sai, lascia Eh, ci dico a che prendo Sì Luca, Luca, Luca Occhie alle rune Ah, sì, sì, lo smette lo leva Ma le rune o PGG dovrebbe stare andando, no? Non lo sa No, mi rendo partecipi Che cazzo vuol dire a Karinxerath Ah, Karinxerath Ah, Karinxerath 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 Ma cosa vuol dire? Sì, sì, sì Sì, può andare a Karinxerath La polizia lo sa Ah, beh Ragazzi, skin base o mega galattico Skin base o mega galattico Mega galattico Mega galattico Per il potere di Cristo Il colpo di Cristo Lo do Ogni tanto Stai parlando di quel No, no Del lo stesso Ragazzi questa La vorrei tantissimo Questa skin Guardate quante bella Kindred Ombra di fuoco L'ostia di Kindred Infatti Fabio In realtà si chiama Tai Kindred No L'agnellina spaziale Non si cambia Sono una tenera Agnellina First man Se lo dici di nuovo Io mi faccio Perché non hai preso il mio posto Sono una tenera Agnellina Ragazzi questa skin dv È più brutta Penso della mia palla destra Porca puttana La sinistra è kawaii Palla destra chiamata persa Palla sinistra chiamata in vista Giusto Io ragazzi sto Squagliandomi Anche io ho dato Ho le braccia bollenti Nostalgia 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 Ho fatto una doccia A mezzo Le sei e mezzo Puzzano già di morte Per quanto c'è caldo Beh allora senti ragazzi Ho fatto un esame Con un caldo Con un caldo Non come il professore Non c'era Marco Ah ragazzi È successa una cosa Bellissima Prima di niente Faccio un esercizio Che Lo faccio partire Era l'esame di python Il programma Mi trova un errore Che non ci stava Allora che chiamo L'assistente Ti faccio Ehi perché Qui ci sta L'assistente Lo guarda un po' Poi fa Boh non lo so Chiedi al professore E se ne va Il professore Non è mai tornato ragazzi Non ho più visto il professore Il tuo errore Eh Il mio errore È rimasto Non si sa il motivo però Ma che errore era Ma Un errore del canto Non lo so Nel senso Allora Avrà un errore Ci stava Ci stava un vettore Con delle cose All'interno Io da quel vettore Toglievo un elemento E mi diceva Ah no il vettore è vuoto Ma ci stavano gli elementi Ci stavano Li vedevo Stavano lì Davanti a me Magari non c'è cavi Per il tipo No 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 Perché poi Perché allora È L'esercizio sui grafi Ora l'esercizio sui grafi È composto da due parti Una che serve Deve fare l'implementazione del grafo Che ti crea il grafo E quella parte là è da sapere Più o meno a memoria Come si fa E l'altra invece è la parte Differente Dove devi Dove devi Insomma risolvere il problema Ho capito ragazzi Luca Sì lo so Lo so Stavo prendendo la build Tranquillo Ma io stando Cosa chi sta io stando Marco se lo spieghi Cioè Vabbè D'acqua da esterno Non ci ho capito un cazzo Ok va bene Ah io perché tu sei stupido La parte dove dovevi Implementare il grafo È da sapere a memoria Quindi io ho fatto la cosa Dove sapere a memoria Ma lì me la dava sbagliata Anche se a casa Ma ha sempre Ha sempre funzionato C'è Akali 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 Airu Airu a parte che cazzo Stai facendo La mi devi aiutare qui E poi ci sta Akali Andiamoci Picchiamo La viene Andiamoci La fare Dio santo Parlava Di Sì Di E' veramente Inguardabile Perché Vi è bella Per essere bella Come personaggio Ma con la schiena E' terribile E lì invece E' bella Per essere brutta Vim C'è Akali Ancora Akali Vieni non dire C'è anche Xerat Per piacere Sto arrivando Non è che Ci metto una vita E' qua Che palle Le partite Vedete perché Non gioco più Perché mi rompo Le palle A perdere Abbiamo mento Fortissimo Prima Perché me l'ha detto Anche mia madre Fai schifo Che cazzo Ho dovuto smetare Il cazzo Di blu Rosso Arancione Paolo Villa Paolo Villaggio Quello era Claudio Villa Cretino Ragazzi Sapete che Non ha mai visto Un film di Fantozzi Ma ti ho detto Che li ho visti Ma non me li ricordo No non li hai mai visti No non li hai mai visti Aire Nessuno di noi Ci crede La fatta Che tu l'abbia visti Non è che mi metto Lì a guardarmi I film di Fantozzi Avrò visto 20 minuti Perché non ti devi mettere Sbaglio Perché non mi guardo Perché non mi guardo I film in generale Mi vedo Guardare Fantozzi No Non guardo nulla Non guardo neanche Fantozzi Aire Tu sei una persona Terribile I bambini Piangono Guardandoti Guardi un bel Stimpeppere Peppere Con Totò Quello ne ho visto Uno Cazzo Merda Due anni Quando Ma se non ce l'avevo Lo scuro Akali Ma la tupi La sala Per favore Grazie Ragazzi ho una sete Che quasi quasi berrei Della acqua Ma non voglio allarghermi troppo Ragazzi Temperatura ambiente No non ho ancora 25 anni Fine 24 posso berla anche gelata Perché poi dai 25 in su un buoglio Se l'avevo freddo Giuseppe la Marche Ma si confermano Ma quelli sono del sud Non conto Non c'è il mid Non so se ha beccato State attenti No guarda qui Tu sei una puttana E tua madre ti odia È vero Marco Ah c'era anche la caccia Eh si Eh si che c'era anche la caccia Ma dai che vedi che hai la caccia Il tondellino Spiralino Sulla Sulla mappa Poi ovviamente ragazzi Che funziona la kindred La prima caccia è casuale Tra Questo Argo granchio qui E questo Ma scusa ma quindi adesso dov'è la caccia Adesso devi aspettare che respawna Ovviamente Io posso cacciare Le cacce Sulla giungla Appaiono casuali Se no posso metterle sulle persone Ovviamente La prima giungla È casuale Tra i due Argo granchi Ovviamente Io vado da una parte La caccia capita Sull'altro E viceversa Perché è la mia vita Altra che no Tu sei la mia strada È la mia perita Ad esempio Adesso mi ha detto culo Guarda lì Vedi adesso sta qua No ragazzi Una mano giungla Una mano giungla Arrivo C'è Serhat qui anche E c'è anche V Devo assolutamente fare questo Almeno Bravissimo Cretina Non ti può dare noia Ci muore pure Vai Non l'hai snettata Non l'hai snettata Vabbè bravissimo Puttanella Vai vai Dato Vai vai Dato Io non parlo adesso Ah in realtà serve Della cultura generale Vedi Come quella Degli aminoacidi E che cosa Cazzo stai dicendo Perché è vero Una volta Non l'hai Lei Dice no Ma la cultura generale Come Non so È tipo sapere I aminoacidi essenziali Ma Quanti Non Quali sono Quanti Non hai detto Quali sono i 20 aminoacidi essenziali Quindi c'è pure detto Quanti erano Come è possibile Non ero in range di torre Luca non ero in range di torre Ma che cosa sono invece il fatto che tu abbia le Cacce sulle persone Sì Allora Io Le prime 4 cacce Che compio Mi danno un buff A velocità d'attacco Attacco E altro Poi vanno ogni 3 cacce Ok E quella Cagli scomparsi Marco ma vai a gancare Con su di vita Prendi i peperoncini No No ma non ci stava più a Cagli E Iro Era morto Ok I peperoncini ragazzi È la cicorietta Che sta in I peperoncini Sono peperoncini A me parlo live però Ragazzi È palesemente cicorietta No No Cicorietta Palesemente cicorietta Ragazzi io c'ho un caldo Che quasi quasi mi vorrei rinfrescare No io mi sto a squagliare Mi sto a squagliare Non ce la faccio È palesemente cicciolino Sì Come? È cicciolina Non è cicorietta Sbagliato Aspetta Un po' confuso Pium Oh no i piccioni M'hanno bloccato Piu 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 Non devo andare Non sopporto Con quanto è rimasta quella Kali? Metà A che livello sta quella Kali? Sempre per metà Un quarto A livello 7 Quella Kali Se le vado addosso Mi uccide Un motivo più per andarlo addosso Secondo me no Secondo me ce la fai Marta Non dovrebbe avere Life Steal Nelle rune Noi vedi Sotto torre No Lascia stare sotto torre No Me ne so andava Lice Dario Quanto in ritardo me lo dici Lascia stare sotto torre What the hell No No per questo ti ho chiesto Perché Come vedi la cazza Eccetera Perché io non Riuscivo a riempirlo in live Scusami Secondo me fra 7 minuti Facciamo vedere il bottone del surrent No non penso dai Minchia Siamo in totta 4 Siamo Hanno già fatto il drago La mid Luca stai soffrendo No non ancora Io sì Airu arrivo Eh ho detto La botta e la topo Stanno soffrendo Ah che non toccati Ti ho sentito sulla botta Come essere uccidita La propria ulti Puttana Luca devi stare molto tranquillo Airu vieni Airu Uccidere uno Serato con la propria ulti Eh no Airu Puttana Sei morto No me lo male C'ho la flash Porta la sottotorre Ultra L'aero 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 Luca dove hai? Non è stata prima L'aero Riempita di botte Occhi ragazzi Ci sta anche Vi Vi che è morta Non è morta Perché è morta Perché mia madre Mi odia Perché l'avversario Dov'è? Non la vedo Dove provo ad arrivare Benissimo è finita in stallo sta cosa Sei morto niente Presa Mi ha denato Grazie Scusate Sto tossendo Alice sai che è una riduzione tossire Ulti Puttana Perchè Non ho ultato io Non sono Sto tiltando contro la mia stessa vita Ricordati i suggerimenti Di l'ultima della partita Mi raccomando Ti installa il gioco Prima di l'antare Bella Grazie Scusate Poi il problema è quando tossisco io No? Ho capito Marco è epilettico Dado Dado perché l'hai fatto? Diventare Partono Dado Fare i versi brutti Non farlo Ora Credimi Ora Cambia il destino I piccioni 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 Marco i piccioni I piccioni I piccioni Marco se si muore Ti prendo Va bene Marco smite? Non voglio sbagliare lo smite Contro un piccione Eh stai morendo No Ci sono rispaunati vero? No 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 La di Non mi fa la di Non mi fa Non posso fare lo smite Sui piccioni piccoli No Quelli piccoli no E ti stanno uccidendo I piccioni piccoli Alice Sì con poca vita Mi uccidono i piccioni piccoli Dai sei avanzato Non so perché Mi fa così ridere Bravo Che hai preso i peperoncini Grazie Alice Arriva Alberto Tu vai se stai sotto torre Mi bot Ulti alla sua serie sotto torre Che è successo? Sei morto? No l'ho mancato Bene vado Io ho ultato raga Non l'avevo ancora fatta salire Ero sicuro di averla fatta salire invece Doppi stun davvero? Io ho fatto salire lei adesso Invece dell'ulti Ok ho già fatto le mosse Perché pepe 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 Pum 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 Io tolgo la caccia da Cali Puoi metterla su Xerath Sì l'ho messo su Xerath Ti serve la E allora vieni Eh ma non si vede Xerath È Squi È Squi Squi cosa? È Squi ho detto È Squi Squi Sì ma non l'ha preso male Sì ma non l'ha preso male Cosa vuol dire? Alice lasciami parlare la mia lingua Sono tipo Dario Fo Dio Né corpo né anima Ma non fa Ragazzi non mi sono portando gli attacchi Comunque non so per qua Ah perché l'ho spostato Ora credimi Un porno Dimmi Anche se son piccina Ce l'ho come papà Sono un cretino Qua non potevo Io potevo stare a seglarmi Dado non si fa i bambini muoiono Quando lo fai Ma dai Stiamo giocando questo Che lo faccio 3 al 13 Viene accorgete Dai Cosa? No eh ma aspettavo venite C'hai di qua C'hai di qua Non l'ho vista davvero Cazzo non Non l'avevo davvero vista Stavo guardando qui Ecco lei però Che altre dovete Dovete andare giù Cazzo li danno Porca puttana Non posso guardare io lì Questo per me è un problema Ehi guys I am su King Su King Vai giù Marco Vai giù 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 I'm coming giù No ma fa culo Non posso inseguire Non ho vita Suka Luca queste parole terribili Non sei niente Ho riso bellissimo Quel suga è stato un po' prematuro Me la sono veritata Suka Ma piantava di applaudire Stavo applaudendo Dovete diventare Ah vuole fare sabacuo Ok Stavo blocando a Luca Ma che cazzo Marco che partita stai guardando Dato ci sono troppi video Che tu non conosci Che dovresti vedere Marco non ancora devo vedere Mezzo gank tu Qua sotto Comunque non Infatti stavo per dire Marco vai giù A pushare la botte Ma siamo in 3v2 Da inizio partita Io ganko raramente Una lane Già Fiddata Al contrario Ma cosa devo dire La torre sta quasi per cadere Aiutano a tirare giù la torre Beh no In realtà In realtà no In realtà sì In realtà invece no Dove cazzo vai Vado dove stavate E poi dove poi Mi sono andati Marco lei mi sono andato Sono morto È un po' diverso La questione Ma se tutte le guide online Dichono che non si devono Cancare le lane Fiddate No che stanno perdendo Non si devono Non si devono cancare Questa è la guida Su come fare schifo No no La guida di ogni Di ogni prossimo League of Legends Sono tanti video Che trovi online Dicono questo No no Ma davvero così Non sto dicendo niente Io ho capito E allora Non è entrata La mossa Che cazzo Non muore Non muore per l'Ignite Ok Devo provare Io ho un dubbio Atroce Che è l'ultimo E tua madre Dovete chiedervi Se siete dei cani Sta arrivando via E da voi Sta arrivando anche via Era qui Arrivo anche io Sono Vieni Però io sono morto Lo stesso Ehi Quello Mi sono chiamato Con tre HP E quel cognomo No davvero Se io rubo La ulti di Di Kog'Maw Ho una carica sola Certo E non fa Se vuoi avere Certo Cariche E Kog'Maw Le si staccano Eh appunto E tu non puoi staccarle Quindi io Non puoi staccarle È giusto Cazzo È abituato a giocare Kog'Maw Ma aspettavo Per prima di averne di più Che male Kog'Maw Comunque Kog'Maw No Kog'Maw Che male Che dici Kog'Maw Invece di Kog'Maw Io dico Kog'Maw Eh certo Io c'è anche Raffan Una Raffan Madonna Raffan Ma è una cosa peggiore Ma Kog'Maw è perché Però è un'agnella Kindre Sono una tenera agnellina Non l'ho capito Non l'hai capito Perché una volta Luca Si era messo a cagare il cazzo Cioè Eh Kindre è un'agnella Non è un'agnella Non è un'agnella Perché c'era un'agnella È un'agnella Favoloso Airoarrivo Ce la facciamo quella Kali Vieni Sì E poi E poi lo senti dire Oh c'è Raffan C'è Raffan Ma dove cazzo sta Vabbè dice anche Biscoring Lui l'ho rinominato Il 40 modi di vero Che cazzo Blitz Sono morto io Scusami come Che questo modo Mi hanno stare notita in faccia Che vuol dire Boh t'avrà T'avrà fatto No Ti ha messo la E addosso Che è lo Shuriken E probabilmente Ha cliccato la E Lo Shuriken E magari era E l'era Nell'altro mondo Sì lo so Ma probabilmente L'ha ricliccato Mentre tu la stai buttando Quindi è arrivato lo stesso Il danno Di quando torni indietro Con lo Shuriken Cioè Mello stiamo prendendo il cazzo Adesso volevo dire a me Il cosa stava accadendo In partita Riusci per continuare Scusami Eh Ahali Ahali Ah 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 Tu Luca Falcazzo che ti pari Vado a farmi La giungla E niente Che ragazze ha fatto Cosa era Non Ah il Dar sigilo Daruco sigilo Vedi che la botta E comunque Non c'è Ma così a caso Va bene Alice Grazie Te la farò pagare Alice Ah Ok Ma dai Sto andando da Filippo In mid Ma Filippo Vado anche da Filippo In mid Si chiama Filippo Che si chiama Filippo Ma no tu Ti muoviti imbecille Ragazzi ho ancora due cacce per farvi che vi riconto stanno male sta puntata Sta partita Ostia Ah ostia Capito che stessi Guarda quello lì che troll Filippo Sta arrivando Lorenzo Filippo è sinonimo di Lorenzo Qual è la ulti di Akali non ricordo Akali Madonna Akali alla ulti fa due dash A due dash A tre secondi in una distanza fa un sacco di danno E praticamente ti giustizia Fa tantissimo danno E' bello L'ho presa ma non posso ricassare il coso Il secondo fa più danno del primo Quelli se ti fa il primo Però lì stai abbastanza lontano E' bella Non potevo scrivo Quello E' abomo questa non muore perché Dai arriva e rimasta Con ari non muore perché Cioè E' abomo No Non La morita cento volte non è morta perché Vieni qua kogmo Vieni qua Ti uccide Ah ma è stato settore E' lui ti può colpire a più renti delle torri Si usa la mossa Si usa la mossa Ah 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 Si E' la torre non c'è più Ma ci siamo sul re Si Pazzesco Dai uno Gigi hanno scritto Gigi Era Gigi Senti che ne facciamo un'altra Ma che ne facciamo un'altra Eh perché abbiamo cominciato Abbiamo fatto un cazzo Abbiamo cominciato i 20 Abbiamo iniziato il quarto E' sono le quattro E' sono le quattro E' proprio capito E' proprio capito E' marcoci Cinque minuti Il vigine il club Una partita di mezz'ora per cinque minuti Come volete Se fate un'altra Alice prende il mio posto No Dite me non sarei Io sarei per il no Amici buonanotte Ci vediamo domande Ragazzi Ragazzi Grazie mille per essere passati A te non frega un cazzo a nessuno Ok C'è inutile Vuoi dire quel cazzo che ti pare Non ce ne frega un cazzo Mi stai zitto Non litigate amici No io Amici Ti ammazzo di imbattito Va bene Amici Grazie mille per essere passati Vi ricordo che domattina Sarò in live su Nino Kuni 2 Ricominciamo finalmente Dalle ore Dalle ore Penso 9 e mezzo 10 Lo vediamo Non lo faccio sapere Ma per sapere A chi ora sarò in live Potete seguirci Sia su Instagram Che su Telegram E ricordatevi di Lasciare un bel follow Neanche al canale YouTube Perché dove ricarichiamo Le live E tra breve Ci sarà il prossimo Nuovo Bestoffo Mi raccomando Mi raccomando Soprattutto l'Instagram Perché domani mattina Ci sarà Per le giovani pulselle O i giovani uomini A cui piacciono gli altri uomini Tipo me Il tuo barco farà la storia Senza maglietta Senza maglietta come sempre Esatto Perché fa un caldo A tre giorni E domenica Quindi andate in chiesa Tutti al quanti Mi raccomando Aspettate Per vedere la live Aspettate un attimo Per favore Che succede Deve tornare 40 euro Luca No Devo fare una cosa Allora Aspettate Se riesco Perché Devi dare la mia 45 Minimo Minimo 60 Sono Non capite che se Badi la chat Non è reversibile Della cosa Una cosa Da un po' Perché ci mette In barazzo Eh Aspettate Nel mentre che Luca fa Si tocca come il suo solito Fare a fine live Non avrebbe il fatto Marco si toccherà Esatto Così che come se ci toccassimo Avvicendo Marco Ma si rota in live Si è visto in live Come si è un caso in live Luca Si Marco esce Dalla schermata Ovviamente Marco esce Dalla schermata Della sconfitta Della partita Esci Poi vai Nella zona Dove ci sono tutte le capsuline Eccetera Cosa Ah Uno Grazie Sì che almeno Te hai visto Aspetti Aspetti Marco Dove c'è il pallino Dove c'è il pallino Vai in collezione Ci sentite Aiuto Capite Adesso vado Aspen Ci sono confuso Quanto Eh vedi Non me la fa vedere In collezione Aspetti Collezione Aspetti Dove cazzo sta collezione Aspetti Eccola qua Cosa è successo Non ho capito Il capire Prima che la trovo Aiuto Dove la vedo La mia collezione Vai Cosa è successo Cosa Perché Luca Non me la fa vedere Non me la fa vedere Ragazzi Non c'è Luca Grazie Non c'è il regalo Non c'è visto il regalo Perché non ti ha perso Comunque Lavoro La tua 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 Ma che bella No Dai Facciamo così Facciamo vedere La tua La tua La tua KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Sì Sei passato davanti a chi Teredo quattro volte Sì Mi sono imbarazzato In questo momento Sì Che buono Ne ho premuto Sapete Invece che sospetti Eccola Molte bella Grazie Luca Spero fosse molto più veloce la cosa No, pure quando mi ha fatto il regalo Tantaccio ho messo due a cercare Ciao amici Ciao ragazzi, ci vediamo la mattina Ciao, 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 ciao Dove cazzo sta la freccia qua? Addio